Carico, eh? 10 5, 4 3, 2 1, vai Sinistra allunga piena Ripeto, sinistra allunga piena In uscita uso poco leva Per inversione, sinistra 1 Attacca alla grande Sinistra 1, vai, attacca Vai, vai, vai Destra 3 piena Vai 20, stai destra Attenzione, Shikan In uscita vai 100 Anticipa a destra 4, 2 tempi Ripeto, anticipa a destra 4, 2 tempi Occhio che 2 tempi Vai, vai 50 In fondo, apri vai 50, sacrifica a destra, per destra 3 meno Ripeto, sacrifica a destra, per destra 3 meno Vai, vai, apri 50, tornante sinistro 2 50, tornante sinistro 2 Perfetto Vai, apri, apri, apri 50 Ritarda poco, sinistra a destra 2 Ritarda poco, sinistra a destra 2 Vai Vai Per taglia poco, sinistra a destra Ripeto, taglia poco, sinistra a destra Subito entra a destra Entra subito a destra Ritarda a destra 3 piena Vai Ritarda a destra 3 piena Per sinistra 2 Ripeto, subito sinistra 2 Sinistra 2 Per sinistra 3 piena 3 piena Per taglia poco, sinistra a destra 2 Vai Vai, destra 3 piena, vai, 20 stai destra, chicane, vai 100, per il fondo anticipa a destra 4 due tempi, ripeto anticipa a destra 4 due tempi. Vai, inizia ad aprire, vai 50, in fondo sacrifica a destra, per destra 3 meno, sacrifica a destra, per destra 3 meno, vai 50, tornante sinistro 2, tornante sinistro 2, ok, esce a palla così, apri apri, 50, ritarda poco, sinistra destra 2, ripeto ritarda poco, sinistra destra 2, sinistra destra 2, per taglia poco, sinistra destra, taglia poco, sinistra destra, subito entra a destra, vai, ritarda a destra 3 piena, subito sinistra 2, subito sinistra 2, vai, sinistra 3 piena, 20 stai destra per chicane, stai destra per chicane, vai 100, anticipa a destra 4 due tempi, in fondo anticipa a destra 4 due tempi, 50, 50, 50, falla a scorrere un po', vai, vai, apri, vai così, sacrifica a destra, per destra 3 meno, sacrifica vai, vai, destra 3 meno, vai 50, tornante sinistro 2, ripeto tornante sinistro 2, vai 50, in fondo ritarda poco, sinistra destra 2, ripeto ritarda poco, sinistra destra 2, ritarda poco, sinistra destra 2, taglia poco, sinistra destra, tagliala poco eh, sinistra destra, subito subito, subito, non aggredire comba, vai, 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 ritarda a destra 3 piena, ritarda a destra 3 piena, non aggredire comba, per sinistra 2, sinistra 2, per sinistra 3 piena, taglia poco, sinistra destra 2, abbiamo detto, ok, chicane, all'uscita 50, all'uscita vai 50, vedi che la fine è sul tornante sinistro 2, vado, vai, vai, fine sul tornante sinistro 2, esci comba, esci comba, vai, grazie a tutti